Musica E benvenuti ragazzi io sono Darkshot E ci sono qua in questo nuovissimo episodio di Clash of Clans Siamo finalmente tornati con Clash of Clans E tra l'altro sto registrando anche con il nuovo microfono Quindi quality over 9000 ragazzi Però dettagli Sentite il nuovo microfono bella Bella C'è anche Diamonds però lui dettagli E' in tramite audio Cioè ho preso il suo corpo L'ho diviso come si fa in Final Cut con il Dutch Audio E ho portato il suo audio dentro casa mia Quindi adesso lui è qua sparso per casa Tipo solo la sua parte audio Perché ci sta Comunque dettagli Adesso come potete vedere nel mio villaggio Ho cambiato un bel po' di cose Perché vi avevo detto che cambiamo la disposizione Poi in una settimana hanno messo Adesso con l'aggiornamento invernale Che si può potenziare gli estrattori e le miniere Con una gemma Io cosa faccio Come fai a non potenziare le cose che non la gemma ragazzi Un gemmone come me non può potenziare le cose che non la gemma Quindi ragazzi Potenziata la stragrande ragazzi Siamo un municipio al 3 maxato Quindi probabilmente nel prossimo episodio Vedrete il municipio al 4 Perché non sto nel prossimo episodio a fare il municipio al 4 Che poi devo attendere altre 252 ore Puoi dirmi che non hai ancora potenziato niente con una gemma? Sì ho fatto tutto Perché io avevo 150 gemmi e sono rimasto 50 fuori di potenziare le barbaro caserne Vabbè dettagli 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 Comunque Comunque Appunto Quindi penso che durante questa settimana qua Quando avrò maxato tutto Che mi manca tipo pochissimo Tipo una caserma Che tra l'altro È già stata potenziata Perché l'ho messa tipo oggi a potenziare Quindi potremmo già fare il municipio Quindi volendo Adesso lo max settimana prossima Avremo il municipio a livello 4 Inizieremo la nuova avventura Per maxarlo Mi mancano solamente pochissime mura Al 3 Tra l'altro questa qui Guardate Bellina Bella soletta La potenza Perché se no poveretta È forever alone La vetrista voi Diamonds Non lo sa Perché qua Sparso in giro Però dettagli Comunque Passando Sparano gli alberi saponi Eh vabbè Comunque A parte questo Comunque Ragazzi Abbiamo Municipio a livello 3 Ve l'ho detto Ho potenziati Depositi al loro Al massimo Depositi al loro Al massimo Depositi al risiro Al 6 Al massimo Torri dell'arciera Al 3 Al massimo Che non è livello 4 Al massimo Mortai al 1 Che purtroppo Abbiamo capito Cosa vuol dire mazzato Non cadere Vabbè Magari Per la gente Poi ho quasi tutti i muri Al 3 Sono a livello 17 Che per un municipio Livello 3 Ci sta E ho 673 Trofei Lega Bronzo Primo Municipio livello 3 Io sarei Un municipio livello 3 Over 9000 E ci sta Bella Solo il problema Che lui c'ha il municipio Livello 7 Quasi maxato Però io Tipo Ho fatto tipo Trovate i municipi Al 6 Con 300.000 risorse Di 2 E li fate Poi E andate E appunto Però dettaglio Comunque Abbiamo I accampamenti Al massimo Ho sbroccato Praticamente Li spaccamuro Sto giocando a flash Sto giocando a flash Praticamente L'unica cosa Che mi manca Da maxare E poi potremmo Fare Posso fare Il municipio Sono qua Gli arcieri E i goblin Nel laboratorio E ci sta Quindi mettiamo Subito A maxare Gli arcieri Bordello E niente Guarda che bel clan Ragazzi Clan fego Tra l'altro L'ultima guerra L'abbiamo persa Per una stella Però vabbè Dettagli Stella di merda Per copa di cose Che sono successe Nel clan Ma dettagli E niente Io sono quasi maxato La prossima settimana Vedrete molto probabilmente Il municipio L'evalo 4 Perché ci sta Ho fatto un bel po' Di attacchi Infatti come vedete Sono 673 Trofei E ci sta E niente Comunque La disposizione È figa Forse con il municipio L'evalo 4 La cambierò Ancora una volta Che voi Tipo Ogni episodio Vedete una disposizione Diversa Ma in verità Dura settimane Sta disposizione Poi tra l'altro Qui abbiamo Tizio caso Che chiede truppe Sto barbone di merda Però non gliele dono Perché Anzi si Gli dono i giganti All'uno Così imparo A chiedere Continualmente Truppe di merda Che gli devo Donare Col mio altro Villaggio Tra l'altro Quello Che gli dono I maghi forti Comunque Allora Qui gli ho donato Tutti i giganti Facciamo un po' Di giganti E Attenzione Giganti all'uno Daga Daga Comunque Niente Qua Per mille Non ho Il Per potenziale Il municipio Quindi ragazzi Qui abbiamo Quasi massato tutto Vi ho fatto vedere Le novità E adesso Ovviamente Come in ogni episodio Che si rispetti Ragazzi Attacco C'è figa Comunque Andiamo No aspetta Fammi entrare nel clan Adesso Diamond si entra nel clan Aspetta No Come un ritardato Ho iniziato ad attaccare Vabbè Dettagli Attacchiamo Tra l'altro Ah beh C'ho 100.000 Questo qua Dai ci sta Bordello Tra l'altro Come un ritardato Non mi sono donato Le truppe Con l'altro villaggio Perché sono Coglione Quindi perderemo Come se non ci fosse Il domani Però dettagli Non portare Sfiga Grazie Sono Coglione Cioè Abbiamo fatto Un attacco Completamente a cazzo Ragazzi Dopo ci rifacciamo Perché è veramente Sono Coglione Quanto hai perso? Eh un attimo Mi hanno ucciso L'ultimo gigante Allora Ho perso 12 trofei Ho guadagnato 1000 E 0 elisir Fantastico ragazzi Che guadagnavi 1000 E 1000 Però Cioè Eri troppo Sei entrato nel clan Tassa premonizioni Sei entrato nel clan Eh? Sei entrato nel clan No Non ho 2000 trofei 1880 Ah Non ti hai che ne hai Che lo modifico Che io Qui essendo progiono Ehi Non posso invitarti Devi lasciare il clan No Non posso lasciare il clan Eh Entrerò nel prossimo episodio Vabbè Diamonds entrerà nel nostro canale Nel prossimo episodio Comunque io nel frattempo Con il mio villaggio Che voi non saprete mai Che ho Mi dono truppe Grazie ragazzi Aspetta eh Stato i domatori Bordello All'uno No Al due Perché io c'ho i domatori Al due Perché mi sento pronto E ma tu vuoi farli al tre No No Ah si però mi costano tipo 50.000 di nero Non ce ne ho 50.000 di nero Eh Che cazzo Lorenzo Fai qualcosa in casa Non fai me neanche un cazzo Vaffanculo Io vado a lavare i piatti E Tua madre Vai a lavare i piatti Bello Sì Vado a lavare i piatti Ciao Vabbè Diamonds Vado a lavare i piatti Bella No no Scherzo Scherzo Ah ok Lui sta qui con noi Vado a bere Vado a bere Bello Ecco ci sarà la mia immagine Dio che bevo Fatemi un selfie Vabbè Fai un video con il tuo Sony Scrauso Così poi Cioè lui invia tutti quanti E si fa bordello Giusto Vabbè Un video in 480 Un video in 480 Nel frattempo Ecco ci manda il video Attacchiamo Perché ci sta Con i domatori al 2 Perché ci sta Ora Per rifarci il trofeo Questo qua 27 trofei 2000-3000 Ma noi Dell'oro cazzo mene Perché c'è le miniere potenziate Quindi Attacchiamolo Ragazzi Allora buttiamo Un po' di arcieri qua Che sono barbari Ma voi non fateci caso Poi Allora Ci butto gli arcieri Invece di qua Che mi distruggono tutto I giganti qua Bella Andate al mortaio Alle difese aeree Vai così E domatori qua dietro Bordello con i domatori al 2 Questo qua dice Ma chi cazzo è Che c'è i domatori Grandissimo Sti domatori fanno cagare Il cazzo Allora mi donnava i maghi Al 5 Però dettagli Comunque Beh no dai Sono fighi Hanno distrutto tutto Dai ci sta Bordello Bordello Ragazzi Ci si porta a casa 27 trofei Che ci sta Ci sta Dai mo se stai facendo il video Con il tuo sony È troppo sclauso Boh magari sta facendo il video Però non ci sente Perché appunto Sta facendo il video Dovete comprenderlo A un sony Hashtag Comprendiamo la gente Con i sony Ho fatto il video Ah grande Bordello Nel frattempo Io ho lanciato Un hashtag Per la dettagli Bene ho fatto il mio video Non so che cosa ne farà Adesso Perché Spedermi un po' Dice E basta A caso Vabbè Bordello Comunque Perché è sopra la videocamera Quindi adesso te lo mando Comunque ragazzi Adesso Andando qui mi manda il video Però magicamente Dato che io Io sono Io sono qua Ma sono anche nel futuro Io sono un essere Multi Ci sarà Il video di Diamond In sovrappressione adesso Perché ci sta Vai col video Allora Io direi che Dato che praticamente Abbiamo il Il laboratorio Che deve Finisce di fare Robbe Poi Da questa settimana Potenzio il municipio Nel frattempo Fino 29.000 qua Posso anche buttarli Cioè buttarli Faccio le mura Che ci sta Bordello Sì Voglio potenziare Le mura Così Praticamente Dai Finiamo quasi Le mura Le finiamo quasi Questa qui Poveretta Forever alone La gemmo Perché se no dai Poveretta Sta forever alone Mi mancano 5.000 5.000 Mi mancano 15.000 No 15.000 Ho fatto 15.000 E poi ci facciamo Tutte le mura Al 3 E cazzo Mene della crisi Ragazzi Cazzo Mene della crisi Nel prossimo episodio Vedremo Di Avrò finito di potenziare Di accedere i goblin Nel laboratorio Avrò finito Di potenziare Le mura E ci saranno Per livello 4 Perché ci sta Ora niente Richiamo diamonds Che il video Non me l'ha ancora Inviato Perché ha una rete Di merda Però dobbiamo Chiamarlo Per Voi il video L'avete già visto Però a me Non me l'ha ancora Inviato Però devo Richiamarlo Per farvi dare I saluti E ha inviato Non è inviato In video Però dettagli Come fai il corrotto Beh non so Io l'ho lanciato L'hashtag Prima mentre lui Faceva il video Hashtag Comprendiamo La gente Con i sonni Quindi prima il video Voi non l'avete visto Mi rimangio Completamente Le parole Però dettagli Ragazzi Dettagli Comunque niente Immaginatevi Con la vostra Immaginazione Diamonds Te lo passo con la mail Eh? Te lo passo con la mail Con la mail Ragazzi Hashtag Forse avete visto il video Forse non l'avete visto Non lo so Comunque La Boh Hashtag Comprendiamo la gente Con i sonni Purtroppo Ora Sto barbone Mi mette sempre giù Adesso io devo fargli Dare i saluti Perché Sono occupato Ti richiamo dopo Eh Vabbè ragazzi Quando Diamonds Mi richiamerà Voi Guarda Mi è arrivato anche qua Sul Mac dettagli Però Il messaggio Diamonds Mi richiamerà Voi adesso Sentirete i saluti De Diamonds Ragazzi Alla fine Diamonds Ha salutato Tra l'altro Cioè Per dirlo Così perché Volevo precisare Perché avevo detto Che salutato Però Comunque Lui è Comunque Un maleducato E Cioè Lo sappiamo tutti Che Diamonds È un maleducato E quindi Non è Che si degna Almeno Perché Non vuole Chiamare Non vuole Fare cose Cioè Almeno si degna Di fare una chiamata Di fare le cose No Vabbè Allora Su Whatsapp Degnati di fare un audio E saluta E saluta gli iscritti No No Perché lui Non si capisce Doveva fare cose A nome Adesso Aprirà qua Lo screen Adesso Potete appunto Vedere Che lui Ha salutato Gli ha detto Di salutare Gli iscritti Gli ha salutato Gli ha detto Fai almeno l'audio Però Guardate Il messaggio Non l'ha Nemmeno letto Perché Barbone E Niente Considerate questo Di Diamonds Quindi Boh Io Ci sono sempre I suoi video Sul canale Decidete voi Ci sono i due tastini Uno così Uno così Decidete voi Cosa fare Così Poi invece Quando si comporta bene Ci sono sempre I due tastini Tanto Sono sempre quelli I video Che ci sono sul canale Decidete voi Cosa fare Niente E niente ragazzi Questo video è finito Io Ricordo che tutti i link Sono nel canale E in descrizione Lasciate un like Iscrivetevi E Bene ragazzi